Lapa, Manaus, Sampia, Bogotà, Abba, I, le le mani in alto. Ci siamo ragazzi, è partito il DTM, Dance Time Machine novanta, sì, ciao a tutti da Alex Castellini, come sempre noi siamo qua tutti i giorni, compreso il venerdì per l'ultima puntata dell'anno in questo caso e con me c'è Francesco Tortelli. Buonasera. Dall'altra parte del vetro c'è Graziano Fanelli e questa sera è venuto a trovarci anche il DJ Freccia, io non so perché. Ciao Freccia. Ciao a tutti da Freccia. Allora io ho un po' di problemi, nel senso che oggi credo che sia tanti auguri a te. Ragazzi io sono veramente commosso. Oggi è una puntata particolare. Ho una commozione in questo momento cerebrale, cerebrale, cerebrolegica, nel senso che. Ma ho già fatto gli auguri ad Alex Castellini? Io non so più cosa fare però ragazzi perché qua mi stanno bloccando il programma. Ma non ti posso tirare le orecchie, ti devo tirare le cuffie. Puoi tirare solo le cuffie perché le orecchie sono perfettamente coperte come puoi venire dalla tua, c'è una telecamera tra l'altro nello studio, mi sa che verrà montato qualcosa. Vedremo di farlo vedere su Facebook. Esatto, vediamo di montarlo a neve. Invece noi proseguiamo col prossimo pezzo scelto da Mattia di Catania, i Magic. Go! Pop Sense Car, You Are My Love, 1999 all'interno di Dance Time Machine 90. Questa sera c'è un po' di delirio nello studio. C'è un po' di casino. C'è casino, ci sono tanti attrezzi, il DJ Freccia. Ci sono tanti? Il DJ Freccia non è venuto da solo purtroppo, ha portato tanti gadget. Oh le orecchie! Basta ragazzi non se ne occupi. Auguri Alex! Grazie grazie, va bene dai, lasciamo perdere gli auguri perché sapete che io sono una persona molto timida, no? Sì, infatti sei rosso. Sono diventato rosso immediatamente. Come il vino. Come il vino, questo è il bianco però. Alex volevo farti i miei complimenti, volevo fare tantissimo di buon comprensione. Benissimo, temo che questa puntata sarà lunga. Proseguiamo, vai, taglia, taglia. The Sound Lovers Wonderful Life, bravissimo. Le mani in alto. For Clubbers Children è il duemiladue, questa è l'ultima puntata dell'anno per quanto riguarda Dance Time Ascinovanta, noi ci sentiremo poi il nove perché la settimana prossima me ne vado a sciare, si può fare, posso farlo? Certo, io vado da qualche parte, non so ancora bene dove, ma vado. E anche l'ultimo compleanno di Alex Castellini per quest'anno. Per quest'anno. Accidenti, una toccatina ragazzi, perché non si sa mai. Proseguiamo con il prossimo pezzo di questa sera, non prima di avervi ricordato una cosa molto importante che riguarda domani sera, infatti visto che c'è anche qua l'altro protagonista della serata. Il DJ di Freccia. Il buon Tortelli. Ok. Allora. Diamo il microfono Tortelli. Tortelli, tieni il microfono, benissimo. Questo è particolare. Allora ragazzi, ma poi c'è un vero, verrà montato un video di questa puntata perché ci sono un po' di cose strane che girano. E vabbè, allora domani sera, importantissimo, trentuno dodici, vi aspettiamo a Desenzalo del Garda in piazza, già a partire dalle ore sei, vero Tortelli? Già a partire dalle ore sei? Con sottoscritto. Il vino lo porta Castellini. Siamo sincronizzati perfettamente. Fantastico. Quando parto io, parto anche lui. Mi raccomando dalle sei, dopodiché c'è un pochino di di party on the road, poi c'è un di pausa e dalle ventidue e trenta partiamo ufficialmente con la serata che vi porterà fino al duemiladiciassette. E ovviamente la serata inizia al trentuno e finisce l'uno, non è che andiamo via mezzanotte, eh? Mezzanotte dei dieci. Esatto. Proseguiamo, prossimo pezzo, Marikea Dubaldo. The rhythm is magic. Sasha, la primavera dell'amore all'interno di Dance Time a Cinovalta. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini. Io sono Francesco Tortelli, dall'altra parte del vetro c'è Graziano Fanelli. Io sono sempre il disturbatore della quiete pubblica. C'è anche il DJ Freccia questa sera che è venuto, lo so come mai, c'ha degli oggetti strani, delle cose, questo qua possiamo schiacciarlo, però questo qui non si ferma più ragazzi, eh? No, no, no. E facciamo gli auguri di buon compleanno ad Alex Castellini che oggi diventa vecchio. Sì, bene, sì, oggi Alex Castellini, compleanni. Tantissimi auguri di buon compleanno Alex. Tanti auguri Alex. Tanti auguri Alex. Typical The Color Inside all'interno di Dance Time a Cinovanta. Ragazzi, questa sera è veramente problematico condurre il programma. Non so se arriverò alla fine della puntata. Ma perché? Perché? Non solo non arriverò al prossimo compleanno, ma sicuramente prima della fine della puntata io secondo me è schiatto, eh? Può essere. Allora, typical The Color Inside. No, dico così perché stasera ci sono tante persone qui nello studio, a parte Graziano Fonelli che dall'altra parte del vetro che se la sta ridendo veramente di brutto. Poi ci sono i protagonisti, in questo caso Raffaele di Genova, ma in studio con me c'è Francesco Tortelli. Come ogni venerdì. È il DJ Freccia che è dall'altra parte, che dov'è? Non parla. È impegnato con il suo microfono finto. È impegnato con il microfono dei puffi. Lo vedrete nel video. Tra l'altro non ci hai messo la batteria qua perché questo qua è divertente, va senza la batteria. Tagliamo, tagliamo e proseguiamo. Mi ha tagliato le batterie. Esatto, col prossimo pezzo arriva Bobby Flexter, uno spaventa casalinghe. Profondo rosso. Memories, Netswerk, 1995 all'interno di Dance Time Machine 90. La pecora canta. Ecco. Io spero che la pecora nel prossimo anno non ci sia più. In compenso avremo un nuovo animale, la mucca. La portata al DJ Freccia. Io, d'altronde, io speravo che la pecora se ne andasse e poi mi portano una mucca nello studio. E più cosa fare? Ti sembrava una mucca. E per far compagnia a Tortelli. Eh sì. Per far compagnia a Tortelli c'è solo una cosa, il ripieno. Eh noi invece siamo pronti per ascoltare il prossimo pezzo eh di Agostino. La passione.